Oggi vi spieghiamo come preparare il Grey Goose French Mule In un bicchiere colmo di ghiaccio versa 5 cl di Grey Goose 20 cl di ginger beer 1,5 cl di succo di lime e usa un ciuffo di menta per guarnire Grey Goose nasce negli anni 90 nella regione di Cogna Questa vodka d'eccellenza è realizzata con i migliori ingredienti del territorio Grano tenero invernale con la sola ed unica giunta di acqua delle sorgenti di John's Aclapalù Wine Livery, l'app per bere